Favorire il dibattito e la consapevolezza all'interno delle comunità locali. Sono queste le finalità che animano le attività culturali e sociali promosse dalla Fondazione San Giacomo della Marca. In particolare oggi con Vincenzo Marini Marini affrontiamo il tema inerente, la realizzazione della terza corsia. Come fondazione ribadite il fatto che le decisioni che saranno prese in merito non riguardano solo la nostra comunità e il nostro tempo. Le decisioni per quanto riguarda l'autostrada, la 14, non riguardano solo noi perché richiedono tempi lunghi e hanno effetti sul futuro della comunità. Ma non riguardano nemmeno noi dal punto di vista semplicemente geografico e logistico perché è una viabilità nord-sud che riguarda tutta la parte adriatica dell'Italia. Noi riteniamo che si debba rispettare il principio della democrazia rappresentativa, cioè non vogliamo che la decisione venga presa dal dibattito. Però riteniamo di voler favorire un dibattito perché qualunque decisione presa, siccome riguarda una comunità, può essere aiutata dal dibattito. E nell'ambito di questo dibattito, sia per una consapevolezza da parte della comunità, sia per suggerimenti e stimoli, è emerso come piuttosto che la terza corsia possa essere opportuno riflettere molto seriamente sull'ipotesi di arretramento per varie ragioni. Una di carattere ambientale, l'inquinamento da particelle sottili è molto alto sulla costa. Una di carattere strutturale, la zona su cui dovrebbe realizzarsi la terza corsia, soprattutto nel sud delle Marche, lo sottolino, è una zona molto delicata dal punto di vista statico e anche per i benefici che un'autostrada dà. Un'autostrada lo si percepisce da dei benefici attorno a sé, metterla, tenerla, mantenerla così vicino alla costa, in pratica fa perdere una parte di questi benefici. Ecco, entriamo nel merito degli elementi più tecnici. Sul piano tecnico c'è da considerare innanzitutto che la realizzazione della terza corsia comporta nel sud delle Marche l'ampliamento delle gallerie e la realizzazione di ponti. Tutto questo, al di là degli aspetti di staticità del terreno, comporta un oneri in termini di lavori e quindi problemi e la viabilità evidenti per tutti, con problemi che possiamo constatare già con i pochi cantieri che ci sono. Per quanto riguarda invece l'aspetto del collegamento, l'arretramento di un'autostrada consentirebbe, mantenendo il tracciato attuale, di liberare molto del traffico nella zona costiera e soprattutto di portare collegamenti e contatti nella zona interna con maggior sviluppo turistico e commerciale. Grazie, grazie allora per essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento su Radio Azzurra.